La ditta Camel Group è una azienda italiana che si trova non lontana da Venezia, è nata nel 1985. Le novità sono queste, finora noi abbiamo prodotto, su richiesta dei nostri partner, soprattutto mobili tradizionali in legno, molto importante la richiesta era sempre l'uso di legno non uso di plastiche o di laminati. Piano piano anche in questo mercato cominciano ad affermarsi i prodotti un po' più moderni, forse le nuove generazioni russe stanno imparando ad apprezzare anche un mobile più moderno, meno complicato da avere in casa. Quindi in questa fiera noi abbiamo aggiunto ad una serie di prodotti classici caratterizzati da linee curve e da intarsi su legno, incrustazia come dite voi, abbiamo aggiunto due o tre modelli con colori qualcuno più chiaro, qualcuno più scuro, ma con linee più moderne che ci sembra vengano richieste dalle nuove generazioni dei giovani di questo paese. Ecco questa collezione ad esempio si chiama collezione Roma, l'abbiamo chiamata come la capitale dell'Italia, è disponibile in questa finitura in noce oppure in una finitura chiara, bianca come la vedete qui, un bianco lucido laccato e il tavolo, questo tipo di tavolo si chiama tavolo Roma.